Ciao a tutti ragazzi del vostro Apollo Spal 07, Spal Cittadella 1-0 finalmente, finalmente un po' di cattiveria, un po' di grinta, un po' di voglia di far vedere, un po' di voglia di vincere, non abbiamo esagerato però comunque abbiamo fatto quel pochino in più che bastava e che quante volte ho detto questa cosa qua, Spal che ritrova un po' di serenità, una boccata di ossigeno assolutamente necessaria in un periodo come questo, assolutamente indispensabile. Ritrovo una vittoria in cui c'è comunque ancora tanto da fare, perché su questo non c'è alcun dubbio che ancora tanti errori, troppi errori secondo me, però quantomeno abbiamo portato a casa la cosa più importante in questo momento, ovvero il risultato e abbiamo fatto vedere anche di essere decisamente più aggressivi in molte situazioni, vedessi una su tutte il gol del vantaggio della Spal, quello il gol vittoria di Sergio Flocari, che è stato un gol da purissimo opportunista, su un pallone sporco, un pallone lungo, uno contro uno col difensore, Flocari ci ha creduto, ha difeso il pallone, secondo me non c'era assolutamente falo sul difensore, e è andato a segnare un gol, è stato un gol proprio di, un gol voluto, un gol cercato, un gol da dire, ha fatto a sportellate Flocari, è questo che vogliamo, anche in queste situazioni qua, pallone sporco che sarebbe stato buttato là ed è venuto fuori il gol vittoria, quanto poco poteva bastare anche nelle partite scorse se solo ci pensiamo. E per di più nel finale abbiamo saputo anche soffrire perché il Cittadella comunque nel finale ha spinto veramente parecchio e diciamo che probabilmente a termini di occasioni di come è andata la partita poteva anche un pareggio forse essere sicuramente più equilibrato, più giusto. Tutto al più comunque abbiamo vinto un partita abbastanza emozionante, ancora una volta non esente da episodi arbitrali dubbi, ma oramai quest'anno siamo arrivati al punto in cui ci siamo a suoi fatti e non diamo più peso e importanza a degli errori arbitrali veramente grossolani e clamorosi che farebbero impallidire veramente chiunque. Due su tutti, il gol non gol di Valotti con la palla che era nettamente entrata secondo il mio punto di vista e l'episodio finale del possibile calcio di rigore per quel intervento di Tomovic che secondo me ci poteva anche stare perché prende palla, prende gamba, prende un po' di tutto, cioè non è che se sfiori il pallone è sempre garanzia di non fallo, secondo me lì ragazzi ve lo dico il rigore poteva anche starci. In ogni caso sono stati due errori, adesso passatemi quello che sto per dire con le pinze, errori clamorosi che potevano condizionare una partita ma non gravi dal punto di vista proprio tecnico. Uno tipo il gol di Valotti ragazzi senza la goal line technology, quei gol lì sono impossibili da vedere, cioè un guarderino non può correre come in mezzo secondo sulla riga di fondo per vedere se il pallone a occhio è entrato con un tiro violentissimo di un centimetro oppure no. E l'altro comunque è stato un episodio di una mischia, anche lì l'arbitro era un po' coperto quindi ragazzi torniamo sempre lì, ci vuole la tecnologia, ma siccome che non la vogliono mettere e non la metteranno teniamoci queste cappelle qua. Ci sono stati anche due traverse clamorose, una da parte del Cittadella nel primo tempo su un calcio d'angolo e l'altra sempre su calcio d'angolo di Missiroli di Tacco che ha provato a fare il Roberto Mancini e veramente per un niente non gli viene un euro gol. In ogni caso tolta l'economia della partita ho visto il mister intanto arrabbiarsi, gridare, urlare, incitare la squadra che è una cosa che non vedevamo fare da Pasquale Marino e non vedevamo fare neanche dei presidenti mister, quindi insomma questo è sicuramente una cosa positiva perché una squadra a questo livello di sfiducia, noi stiamo parlando di una squadra fondamentalmente sfiduciata e cui bisogna ridare fiducia ci vuole un po' un sergente di ferro sostanzialmente, ci vuole uno alla Cersei Cosmi per dire. Ovviamente Rastelli non è del tutto questa figura però è una cosa che si avvicina un po' di più secondo me. Marino aveva troppi tecnicismi, troppe finestre che non ci possiamo permettere. La Spal deve giocare semplice, deve giocare di grinta come ha fatto oggi e pur non incantando, perché pur vero che l'abbiamo incantato, due traverse e un gol. Cioè concretezza, concretezza. In questo momento serve questa cosa qua. Quindi io sono potenzialmente fiducioso del fatto che Rastelli possa fare bene, adesso il calendario che si trova davanti non è facile, oggi eravamo pure a corto di punte, però intanto abbiamo trovato un risultato importantissimo che ci permette di poter continuare a sperare, a tenere aggrappata la corsa playoff, che ripeto è oramai l'obiettivo stagionale principe e tutt'al più riusciamo anche ad approfittare di certi risultati tipo la sconfitta del Monza di oggi o tenere comunque il passo di squadre come Venezia e Lecce che al momento sono lanciatissime. E anche perci se non andate alla fine del video scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, ragazzi io vi ringrazio tutti i commenti che mi lasciate e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. E sempre Forza Spal!